ma che è? ma che è? ma se vuoi girarci alla volta? di oh basta dai straccio di bollone ai oh papi no vabbè vaffanculo ma perchè? era il leone si addormentato come no il leone si addormentato buongiorno buongiorno oh ora pericone Mosco dove andai io? vaffanculo dove? vaffanculo oh adesso si che posso partire buongiorno buongiorno coccodrilli oggi con la mamma ci siamo ci siamo se sei un coccodrillo drillo oggi massima carica è sabato è sabato e si parte let's go qua è tutto pronto sabato bodytec oggi lo scasso no per le informazioni chiedete a Andrea tutti i benefici del bodytec attacca la macchina vai andiamo dai anche oggi allenamento fatto stiamo tornando oh no che stai facendo che pesca ma se attacca il papa non attacca e dopo e dopo tu guardi e poi e lei che da una zampata eh no ma 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 no 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 la No, questo è sbuchettarlo un po', o no? L'ho, mio tele! Si può sbuchettare un po'? Fa un po' un po'! Perché? Non vuoi il metrino? Fammi misurare il pistolino, là! Oh no, fammi misurare il pistolo! Oh no, fammi misurare il pistolino, là! Oh no, mi... Vattene a Dio, c***o! No, no, doppia no, eh! Volevo misurare il pistolino, o no? Nonno! Oh no, perché stai a misurare l'acquario? Oh! Oh no! Perché vuoi trovare un posto per vizzaglio? Che vuoi arrivare i coglioni? Tenimmo la messa! Se va di là, me la metti qua! Parate, venga aiutato io, sta tranquillo! Ragazzi, guardate che abbiamo ritrovato! Eh, e questo è il telecomandante! Ma funziona? Eh, funziona, non c'è l'epile, non c'è niente! No, vabbè, raga, questa mi ci divertirà, ma io la voglio ricomprare una macchinettina telecomandatina, eh! Sì, ti fa vedere quante ce n'ho! Guardate, questa che è, è un F40, guarda che lavoro! Tutte le mie macchinine di quando ero piccolo! Guarda che spettacolo! Questa è una... Una Sfepic, è o no? Eh? È una Spenots! Questa è Ferrara! La Modena! Top! Sfumale, leviamo la macchina tua e mettiamoci queste, no? Così le parcheggiamo dentro il garagino, no? Fammi le pistele! Fermate, Dio! No! No, 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 no! Favolosa! Bellissima! Ce l'avevano data quando avevamo preso la Mercedes, tanti anni fa, papà mio! Più bella! Fantastico! Oggi giocavamo insieme? Sì! Eh? Sì! Ti dava gusto giocare con me? Che giochi facevamo? Racconta un po', è anche bello raccontare! E chi c'ha il pensa che io sono anche rimbecillito? Eh, quando te pare! Ti ricordi quando ti lanciavo la pallina? Come la lanciavi? Arcontelo o no? Oh! Arcontelo! L'amore! Ah, mi rompi i coglioni! Ne vuoi raccontare? Vedi, io ci provo a interagire con lui, ma lui fa sempre un po'... Eh, io lo so, fatto a modo mio! L'amore che ho ritrovato? Eh? Sai questa Lamborghini come si chiama? Eh? Diablo! Dammi! La Lamborghini Diablo! La Lamborghini Diablo! Ecco la Lamborghini Diablo! 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 Ho 7, so io il numero 7! Fermati, testa di cazzo! Ma perché? So io il numero 7! Fermati che pozza fa le piamme! Da dove? Dal culo! No, dal culettino! Oh no! Mi nato la mamma! Il piatto ma? Gamberoni pistacchio, contattati i gamberoni! Eh? E bottarga! E bottarga! Quindi c'è anche il pistacchio! Fermati! C'è il pistacchio! C'è il pistacchio! Arzù che? Oh no! Oh no! Mi dici perché? Che è lui? Eh? Oh no? Che è? È un filo di una mignola! Ma dov'è? 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 Dov'è o no? Ah! 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 Roccodrilli stiamo facendo con mia sorella la lista di tutti quelli che hanno acquistato questa settimana al mio store! Guardate! Questi sono tutti i numeri! Vi arriverà un video saluto su Whatsapp! Chi ancora non ha acquistato allo store può farlo e partecipare al contest! Fate swipe up e vi arriva il nostro saluto! Vero o no? Certo! Saluto personalizzato per tutti voi! Dai scrivi scrivi che siamo in ritardo! Dormimo? Dormimo tutte e due a coppia! Una dormita di coppia! Una coppia di dormito! Una dormita di coppia che dormono tutto il tempo! Dormono! 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 Eccoli! Ragazzi ormai è tutto come una grande famiglia! E c'è che qualcuno si offende se non esce! Eccolo! Lui si stava offendendo quindi dobbiamo farlo uscire! Vero Busterillo? Tanti di voi capito di rimanere senza! Ecco qua! Sì facciamo così! Ok! Penso che possiamo bastare! Lo scontrino non l'ho più a posto! Se metto in tasca esco! Ragazzi la mia banca è differente! Vedete una cosa per me molto speciale! Visto così non è niente! Ma in realtà questo è il campetto dove giocavo sempre a calcio! Ho iniziato qua con gli amici! Anche insieme a Andrea Ranocchia! Ci troviamo tantissimo sotto questi palazzi! Non era... Una volta... Non è come adesso che hanno tutti sto telefono! E qui si veniva a giocare! Si veniva a sudare! Si tornava tutti i sozzi sporchi! Che bello guardate! Andrea ti ricordi? Chiaramente Andrea è cresciuto e sono rimasto sempre così! Sono proprio bambino da sempre! E quindi ecco lui gioca in Serie A! Io sto sul boosterillo adesso! Però beh! Questi sono dettagli! Guardate che bello! Qua sei arrivato! Questo è un ottimo nascondimento! Questa è un sicuro! Pass! Dai! Come cuce ecco la nuova stilista del momento! Chiara Carli! Seguitela tutti! Ha sospeso un po' la sua attività Instagram ma sta riprendendo! Eccolo! L'ho stata volendo! Testo di cazzo! Ma è un botto su Bruno! Ma perché? Oh! C'è lo è! No no no! Il titolo di questa cazzo! Ma che cazzo dici? Oggi è sabato! Che trai? Che trai? Ah è vero! E' sabato! Ah c'è ragione! C'è ragione! Scusa! Abbasso! Che bel panorama questo! Ah! Di qui ci vengo con una! Un bel bicchiere di vino! Un bel pezzo di sushi! Ma dai un bel pezzo di cazzo! No! No no! Si no! Un pezzo di sushi! Ma quei sushi! Fai lo ciucci! No! Ste cose in se dicono! In se dicono! Ma se fanno! Stupido! Va a ficare! No! No! Quei c'è il sigliozzo sta macchina! Porca! Scenosa! Perché? Ah! Sto a provare il freno! Mannaggia il bambone! Dai! Si! Aspetta che fa russo! Com'è stato sto giro? Sto giro è stato fenomenale! Bello! 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 Ti è piaciuto? Sei contento? Mi è piaciuto da morire! Ah! Meno male! Fortuna che mi hai portato un giro a... Questo è bello bello il giro! Si! Bello da morire! Dai un bacetto! Vai! 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 Che adesso arrivo anche io! Non ti preoccupare! Guarda come scende! Non venia anche le cazzate! Andrano per il mio senso! Vai! Vai! Sennò l'aiuto! Ah! 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 Vai! 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 Ave! Ave! Tutti insieme! Ave! 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 Ave Maria Zan zan Sempre Bella